Ehi, chi si chiama? Ehi, chi si chiama? Pronto, sono il dottore Alfonsini Ehi, sono lo scrittore Armando Mericoni Allora, facciamo il 17 luglio Che pensate? Già, perché tu hai qualche problema? C'è un po' che non ha ossidoro Pronto, sono il dottore Alfonsini Giovanni Calamari Facciamo il 17 luglio Quanto ci vuole arrivare a questo dottore? Ma pensa! Ma quanti che mi ha fatto? Le spiego dottore Quanto ci stanno? Ho capito tutto! Fatto? Andiamo a parlare del banana bumbu Chi ha parlato del banana bumbu? Allora tutto comincia di qua E noi partiamo Per il banana bumbu E noi partiamo E noi partiamo E noi partiamo E noi partiamo E noi partiamo